eravamo a suonare in un posto in versilia e mi trova ubriaco abbracciato a della gente che non conoscevo in parcheggio uscendo lui dice ma dove cazzo vai? hai suonato, hai fatto il dj7 qua e stai uscendo con uno che probabilmente ha pagato per venirti a vedere ubriaco abbracciato a questo in parcheggio fumando Bella raga nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, ciao io sono Gianluca Gazzoli ci siamo perché con me c'è sempre un ospite, c'è sempre un amico che viene a trovarmi, anzi a trovarci perché ormai passa dal basement di tutti per chi ci sta seguendo su youtube mi raccomando se vi va iscrivetevi a questo canale così non vi perdete nessuno di questi incontri ci tengo particolarmente all'incontro che stiamo facendo perché è un amico con cui peraltro ho anche condiviso dei momenti della mia vita anche professionale ed è per questo che in realtà si risale e si torna un po' indietro nel tempo, oggi proviamo a ritornare ogni tanto un po' indietro nel tempo un po' nel presente, sul futuro ci stiamo lavorando qui c'è Emi Schilla bella Emi Schilla grazie 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 per essere passato ce l'abbiamo fatta ringrazio te, ringrazio anche Zanna che è qui con noi che insomma anche perché giustamente è un periodo bello intenso anche per te non ci sono periodi, cioè ci sono, ci sono stati per tutti dei periodi un po' più calmi però sei un bel frullatore ormai da un po' di tempo sì, allora mi ero un po' disabituato a questo perché negli anni del lockdown pesante mi ero un po' non ti dico impigrito però comunque la normalità come per tutti era cambiata anche per me quindi i ritmi erano sicuramente molto meno frenetici invece da quando hanno riaperto le gabbie è come se ci fosse stato un recupero totale però tutto concentrato in pochi mesi tanto è che quest'estate, anzi io già dalla primavera sono stato in giro a fare moltissimi DJ set e questo mi ha spremuto già abbastanza ora stiamo lavorando insomma come abbiamo anche detto già alle date sto scrivendo comunque il nuovo album eccetera tanto è molto bella questa cosa, te lo dicevo anche prima delle nuove date della celebrazione in realtà che hai voluto fare in un modo particolare cioè tornando realmente alle origini per questo prima ho detto facciamo un piccolo salto nel passato sì allora inizialmente doveva essere una cosa veramente commemorativa ma anche molto più intima io ho detto facciamo un paio di magazzini ok e io sono contento così però andavano talmente bene che non era una questione di grattare ma è se così tanta gente lo vuole lo vuole no perché privare in molti no di questo evento di questa festa commemorativa e quindi alla fine poi le date sono diventate un po' di più però comunque poi ci siamo fermati per alcuni del nostro team la cosa sarebbe dovuta andare avanti ah sì era tipo continuo continuo ne facciamo dieci no dai mi hanno detto va bene no poi perdeva forse un po' di esclusività bravo a me Zanna piaceva l'idea di lasciare qualcuno a bocca asciutta sì e beh è un po' anche il periodo anche vuole queste cose no cioè il fatto che comunque questa cosa crea ancora più hype attorno eventualmente alle date e chi c'era può dire io c'ero davvero perché se poi ci possono essere tutti diventa anche un po' problematica come situazione comunque sono contento anche perché so che quando si chiacchiera con te è una figata perché non sei mai banale diciamo in quello che dici e sei uno dei pochi che dice quello che pensa recentemente ricordo di averti scritto dopo forse aver letto qualcosa che avevi pubblicato eccetera tipo cacchio mi sto iniziando a preoccupare mi sto ritrovando troppe volte d'accordo con quello che scrivi su tweet perché anche lì ogni tanto tiri fuori dei pensieri di cose che poi ovviamente sono le tue opinioni però a volte sono opinioni condivise da altri che non tutti hanno il coraggio di dire ti è mai capitato che qualcun altro ti dicesse oh mi sembra mai che l'hai detta tu quella roba perché io non la potevo dire io mi incazzo perché mi fate sempre fare queste figure poi in privato tutti bravo grande ma brutti bastardi perché non vi schierate dalla mia parte mi fate fare sempre la figura del pazzo sì sì in realtà succede sì sì perché poi è appunto un periodo in cui è anche un po' difficile a volte esprimersi perché devi tirare fuori sempre devi mettere tanti se tanti ma cioè per ogni cosa che dici rischio di essere frainteso forse è meglio la musica perché a quel punto se dici le cose nella musica quello è non lo so eh sì rompono un po' anche nella musica a me poi a pochi altri particolarmente però io come ho sempre detto non mi interessa granché e spesso non mi devo neanche esprimere io ho un pubblico talmente ammaestrato passano il termine no? che poi spesso fa il lavoro al posto mio quindi è bello ci sono stati no? gli episodi in cui mi rompono i coglioni per qualcosa insomma per qualche rima e ci pensassero i miei fan si scatenano loro per primi no ma non inutilmente perché effettivamente a volte sono delle critiche sterili o futili cioè non hanno senso di esistere e poi adesso sembra che come per tutti gli argomenti e non solo la musica ovviamente tutti dicono la loro anche chi magari quella cosa lì non la vive o magari non la conosce è una delle ultime polemiche fu proprio per una roba del genere diciamo una persona che non non aveva secondo me nessun diritto di critica nei miei confronti invece lo ha palesato tra l'altro si social davanti a tutti poi insomma io con le risposte ci vado sempre un po' un po' diciamo pesantemente quindi poi si è creato il solito caso che poi dura tre giorni e poi nessuno si ricorda più niente quindi al fine il bello e il brutto del web è anche quello la polemica del giorno bravo ok in alcuni casi diventa la polemica del giorno quando hai iniziato tu tutta questa roba qui non c'era? no no non c'era perché non c'erano questi canali di diffusione che sono appunto i social network una volta per far sentire la tua opinione a tanti se non lo facevi attraverso la musica potevi farlo in tv o in radio ma la tv e la radio notoriamente sono molto più più serrate sono dei canali molto più censurati molto più curati tenuti d'occhio proprio anche da chi li gestisce quindi è molto più difficile farla sparatone anche perché poi tu lungo il tuo percorso sei sempre stato per tanti anni il next gen cioè il volto nuovo sulla scena eccetera eccetera adesso ti senti dalla parte dei veterani nel mondo del rap sì sicuramente più da quella parte che dei nuovi poi in realtà anagraficamente non sono molto lontano dalle nuove generazioni o meglio da quelle che vengono considerate le nuove generazioni perché tra me e alcuni dei nomi più influenti dei nuovi in realtà passano due o tre anni tu sei dell'ottanta 89 magari gli altri sono nel 91 e nel 92 però il fatto che io sia uscito molto prima mi ha collocato subito tra i grandi infatti non so se ti ricordi ma diciamo nel periodo 2010 dal 2010 al 2014 2015 c'erano i veterani appunto quindi i vari Club Dogo Marrakesh Fabri Fibra e io che ero molto più giovane però comunque ero in quella nicchia gli altri erano poi altri rapper underground che poi nel tempo hanno svoltato hanno fatto delle cose incredibili però tu eri insomma sei diventato mainstream quasi subito sì diciamo di sì quindi nell'immaginario collettivo io sono uno di quelli grandi ma in realtà anagraficamente sono molto più giovane però sei tuttora di ispirazione anche per le nuove generazioni è una cosa che i rapper vengono da te ti dicono molto e ti dico spesso anche quando mi è capitato di sentirmelo dire da degli artisti così apparentemente diversi da me che non me l'aspettavo e questo mi ha fatto un gran piacere c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito in generale tanti o per esempio i ragazzi di San Siro della Seven Zone quindi Rondo mi citò addirittura nel primo progetto vale pain ho visto un'intervista di Keta in cui dicevo io ascoltavo un sacco i mischilla poi gli ho scritto che mi aveva fatto piacere infatti non te lo aspetti cioè dici cavolo loro hanno un'attitudine così apparentemente diversa da quella che magari può essere la mia oggi che dici boh magari anche essendo così giovani quando io macinavo nel rap magari ancora non erano vicini a questa cosa e invece sì mi fa molto piacere che lo ammettano che poi nel senso non c'è niente di male però a volte c'è un po' la moda soprattutto appunto tra i nuovi di dire no io il rap italiano non lo ascolto non l'ho mai ascoltato la mia influenza e invece è bello comunque riconoscere che hai avuto influenza da parte dei tuoi paesani però c'è qualcosa evidentemente che vi accomuna anche beh sicuramente il fatto che nonostante la musica fosse diversa stiamo parlando di me di questi ragazzi per esempio tutti i ragazzi comunque che arrivano da un contesto molto di strada di piazza e case popolari ecco quindi sicuramente quello ci ha ci ha aiutato magari ha fatto sì che loro vedessero qualcosa di loro stessi ma è nella mia musica ecco beh questo è figo dovremmo chiederlo a loro non lo so no però è una figata è un attestato insomma di stima e di rispetto anche voi poi tanti di questi ragazzi ecco la differenza forse è capitato magari di parlare con altri amici tuoi colleghi che sono venuti qui è che loro hanno oggi delle possibilità cioè sicuramente il mondo musicale è proprio diverso rispetto a quando hai iniziato tu c'è qualcosa che invidi alla loro generazione o che invece o invece qualcosa che pensi che della tua sia imbattibile allora della nuova generazione non invidio il loro talento ok invidio il fatto che hanno come dicevi tu delle possibilità enormi rispetto a noi anche dal punto di vista economico e contrattuale cioè loro vivono davvero il sogno americano di vado in major e firmo subito il contratto da diverse migliaia di euro ok talvolta centinaia di migliaia di euro cosa che per me è arrivata dopo anni di gavetta e il fatto che possono veramente fare qualsiasi cosa vogliono cioè anche rappresentare appunto un immaginario di questo tipo molto strada molto gang che comunque è una figata e sicuramente quando ero giovane mi avrebbe gasato ai miei tempi non si poteva fare perché innanzitutto non c'era tutta questa globalizzazione della musica rap che poi è diventata vabbè la trap la drill però comunque era tutto molto più settoriale e poi perché noi diciamo della vecchia guardia eravamo e siamo tuttora ancorati a un'attitudine diversa che è molto più legata al messaggio allo scrivere le rime la tecnica il rap la cultura hip hop addirittura io mi sono addirittura succato con tutta quella roba lì e di cui vado fiero io ancora faccio i graffiti per dirti e quindi insomma invidio un po' questa cosa di dire si è sdoganato completamente il fenomeno e ad oggi non ti devi fare più le pippe che invece magari facevano a me quindi è meglio cioè non sei di quelli che dicono no beati loro adesso se vuoi tatuarti in faccia e andare in televisione lo puoi fare sì prima non ti avrebbero mai ma va non andavi in televisione che ti tatuaggi in faccia io ne avevo parlato anche in un'intervista adesso non ricordo quale dicevo addirittura a me mi rompevano i coglioni tipo non ti mettere il cappellino comunque stai andando in televisione ed effettivamente per quanto io non la condividessi capisco il loro punto di vista dei tempi perché dici comunque rappresenti un fenomeno nuovo vuoi più ti stai ponendo molto spesso davanti a delle persone che sono più adulte di te che non ti conoscono non sanno il contesto da cui arrivi e sicuramente ti fai non accettare però sei più piacente se comunque ti presenti come un ragazzo magari a posto capito poi a me dicevano sempre tu rispetto agli altri sei bello non so poi magari era un mito però sei un bel ragazzo e in effetti lo posso capire cioè infatti poi quando ho avuto le mie esperienze televisive ho notato che entrai nel cuore per esempio di anche tante le mamme le nonne addirittura ma che bel ragazzo come parla con la testa a posto tra l'altro il mio ricordo è che tu sei entrato nel cuore di Raffaella Carrà perché il punto in cui ci siamo conosciuti noi è stato proprio durante The Voice nell'anno in cui tu facevi il giudice io mi muovevo dietro le quinte a fare i video a raccontare il backstage e ho questo ricordo di affetto a parte tra voi giudici c'era anche Max era veramente un bel contesto però questa cosa effettivamente me l'ha fatto che ricordo hai tra l'altro di quell'esperienza? è bella la collego tantissimo a Raffaella perché si creò tra noi un rapporto sincero tanto è che poi ci sentivamo spesso anche al di fuori del programma anche dopo ci siamo visti lei mi ricordo una volta mi invitò a casa sua a bere il tè mi raccontò che poi la sera arrivavano le amiche giocavano a burraco è una mia amica come una zia è una mia amica mi diceva guarda che incredibile diceva guarda che Raffaella non è una che dà questa confidenza a tutti anzi ti deve proprio volere bene però era molto carina spesso le mandavo il messaggino mi rispondeva Gianluca te lo ricordo la signora tipo non è adesso le riferisco il messaggio c'era sempre questa questa situazione molto reale reale nel senso di regale si dice forse autoritaria però affettuosa e si ti dico effettivamente mi è proprio dispiaciuto insomma quando è mancato non è sempre così comunque guarda te lo dite devo far avere io ho tutta una serie di materiali backstage che non ho mai pubblicato eccetera e in tanti perché sono andato a rivedermeli quando è uscita la notizia della scomparsa di Raffaella dove scherzate di brutto ci sono dei pezzi in cui mi farà piacere che mi fai avere te li faccio avere sicuramente e l'esperienza tu avevi già fatto televisione prima di arrivare lì perché mi ricordo io ero da Goal DJ con Giuseppe con Giuseppe con il buon Giuseppe esatto che salutiamo super che anche lui aveva sempre visto in te comunque un qualcosa per spaccare la telecamera non nel senso che arrivavi lì e la spaccavi davvero però per diciamo lui è stato colui che poi in realtà mi ha aperto le porte alla tv in quel senso cioè è stato il primo della televisione che aveva il potere di potermi fare qualcosa di sensato a credere in me questo lì lo riconosco beh cacchio e lì Goal DJ ti sei divertito c'era il calcio c'era la musica sì allora l'effetto collaterale di Goal DJ che mi ha fatto passare per un dottorone del calcio e quindi incontravo gente per strada che mi faceva delle domande tecniche a cui io non sapevo rispondere e te lo giuro per la gente sì perché comunque i test erano scritti sono stati molto bene io credo di aver fatto bene il mio lavoro ne avevi interpretati raccontati bravo una scioltezza e quindi eri credibile ero credibile esatto in realtà io di calcio non ci ho mai capito granché per quanto poi mi piaccia lo stadio tutto però non sono un feticista del calcio però se sei in curva vai in curva a vederla quella ti piace sempre restare a contatto sì sì la curva però è più un contesto di amicizia e di aggregazione che cosa è per te andare a vedere la partita del Milan nel tuo caso o comunque andare allo stadio è un momento di aggregazione cioè per dirti l'ultima partita a cui siamo stati non è andata benissimo certo però il momento più bello di fatto è poi quando è venuta la squadra sotto con noi che cantavamo nonostante avessimo perso ok e questo rende la cosa magica no lì senti magari l'unione tra la curva e la squadra perché non è una roba da tutti spesso sai non so vedo gente sui social che diceva ma però vi dovete ribellare ribellare cosa no cioè non è che non è una cosa così così importante da quel punto di vista voglio dire non è che queste persone ci devono qualcosa parlo proprio della squadra a me poi parlo più per i ragazzi quelli veri della curva io nel senso sono comunque sempre un ospite però è quello il bello però lì tu te la vivi sei insomma l'hai sempre fatto una roba per cui mi schilla lì no allora bisogna essere onesti allora io la prima volta che andai allo stadio andai in curva appunto nella tua vita tu dici sì sì la prima volta nella mia vita andai con mo quanti anni avevi? si parla di un poco più di dieci anni fa ok quindi 20 22 anni 20 anni 21-22 anni e mo a me appunto mo curva sud certo ancora su Instagram esatto da sempre no noi andiamo in curva erano anni in cui comunque si vacillava un po' no infatti poi da lì è iniziato diciamo il periodo buio del Milan e la curva anche era diversa perché per via di alcune cose che erano successe avevano tolti i megafoni i tamburi quindi era proprio anche complicato creare un bel momento bravo in curva mi ricordo si dovevano coordinare dandosi l'1, l'2, l'3 a voce insomma non era al massimo io poi appunto iniziai anche con l'esperienza con Goal DJ che mi avvicinò ulteriormente al calcio feci quell'inno del Milan con Saturnino che mi mise letteralmente sotto io ho un contratto con il Milan proprio con la società e assieme a quello poi era venuto tutto il periodo in cui era venuto Mario a giocare avevo conosciuto Stefano nell'anno magico in cui al Milan aveva spaccato tutto quindi questo ulteriormente mi aveva avvicinato a loro parlo della società quindi per un periodo mi ricordo le partite andavo a vederle prima nella balconata quella lì quella da VIP diciamo sì dove stavamo noi e i parenti dei calciatori o degli allenatori ed era molto bello vedere la partita lì perché insomma era un posto veramente libero mi ricordo davano da mangiare da bere tutto il tempo potevi fumarti la sigaretta vedevi meno la partita però era bello hanno tolto quella balconata poi insomma è venuto il periodo tribuna autorità lo skybox però sono sincero non mi divertivo molto perché vuol dire andare lì per guardare la partita che ripeto ci sta però non essendo un invasato proprio di calcio a volte non avevi quel momento di compagnia mettiamolo qui se la partita non era bella mi annoiavo ok no e poi recentemente appunto abbiamo conosciuto stretto rapporti molto con i ragazzi della curva con i ragazzi del direttivo e questo è stato un gran privilegio perché questo adesso ci permette di andare a vedere la partita di stare con loro però comunque in una posizione chiaramente diversa perché se vai in curva e la guardi comunque con loro in transenna la partita la riesci a vedere e soprattutto non hai quella pressione che fai con se dietro oh canta guarda vi vedo dovete cantare è un lavoro diventa andare in curva assolutamente e soprattutto posso andarci perché essendo loro comunque che un po' gestiscono l'aspirazione lì ho molto meno stress da parte però quello comunque è significativo perché poi chi a un certo punto ha successo che sia nella musica che sia in qualcos'altro quando poi va allo stadio sta nella sua tribuna d'onore come hai detto tu si fa la sua roba sta lì e la sua ambizione sociale è quella di stare nella tribuna d'onore eccetera e invece tu che puoi farlo ti butti con la gente nella curva infatti dalla società mi hanno detto dai ma perché vai in curva mi rompo le scatole a vedere la partita però ripeto veramente ringrazio i ragazzi comunque dalla curva sud perché sono stati veramente dei grandi si sta creando anche un bellissimo rapporto di amicizia e comunque mi tutelano non dalle cose brutte però proprio dallo stress perché in curva immaginati mi spolperebbero mi spolperebbero vivo 2000 foto invece con loro comunque riesco a fare la mia esperienza sì assolutamente e questa cosa comunque dello stare tra la gente è comunque qualcosa che la gente ti riconosce molto molto ed è una cosa bella cioè mi piace che arrivi alla gente questo ad esempio nel tuo percorso c'è mai stato un momento in cui tu hai pensato di aver perso un po' il contatto con la realtà o sei sempre stato così piedi per terra e via se parli con Zanna probabilmente ti dice anche drop sì a un certo punto non dico che devi tirartela però forse no tirartela no però magari ci sono delle cose che non sono adatte ad altri contesti ok e questo va non si parla tanto di frequentazioni ma dal banale che ne so mi ricordo una volta e ti parlo non ero ancora molto famoso ma Zanna mi fece un cazzettone perché eravamo a suonare in un posto in Versilia e mi trova ubriaco abbracciato a della gente che non conoscevo in parcheggio uscendo lui dice ma dove cazzo vai hai suonato hai fatto il DJ set qua e stai uscendo con uno che probabilmente ha pagato per venirti a vedere ubriaco abbracciato a questo in parcheggio fumando ma capisci quando ti dico rimanere con i piedi per terra anche troppo intendo questo forse quello sarebbe da evitare poi è un episodio simpatico però no no certo ecco viverla totalmente così forse non va bene diventerebbe proprio più complicato anche per lui gestire a livello gestionale sicuramente gestire tutte le situazioni quando quando è iniziato chi erano i tuoi riferimenti? ma musicalmente musicalmente scusami e Jack La Furia su tutti cioè lui è stato quello che l'ho proprio non ti dico copiato perché comunque quando ancora non lo conoscevi? quando ancora non lo conoscevo sì sì ero proprio un ragazzino e lo ho ascoltato cioè quando io ho ascoltato il Mifist che è il disco diciamo quello che tutti poi no sì sì il disco che ha cambiato un po' per intenderci ai tempi sicuramente era una roba anche molto oggi suona una cosa retro ai tempi era invece lungimirante e io ho detto mica io voglio fare anche io questa cosa mi piaceva troppo sentire le cose che dicevano perché arrivavo io da un periodo di ascolti di rap ben fatto dove comunque tante delle cose che venivano dette non mi appartenevano mi piacevano mi affascinavano ma non ti ci riconoscevi? no perché ero anche troppo piccolo e quindi anche proprio certi ragionamenti la terminologia certe cose non le coglievo bene però mi piacevano molto cioè io ti dico ho ascoltato se devo dirti tre nomi ho ascoltato tantissimo Bassi Maestro che per me veramente da quel punto di vista è stato un po' come un padre artistico cioè io proprio l'ho ascoltato come se fosse un padre Fibra che i tempi era il periodo Mister Simpatia dove però comunque era una roba già diversa non molto più goliardica rime da pazzo cattiveria manetta quindi mi divertiva sopra le righe bravo mi piaceva però comunque non rispecchiava il mio modo di vivere non sarebbe stata la musica che avresti fatto tu? no l'avrei potuto ok invece quando ho ascoltato Mi Fist dei Dogo erano a me cioè erano quello che raccontavano quello che loro avevano vissuto e che stavo vivendo io quindi la piazza il booster il club le riste le giostre le Nike Air Max tutte queste cose che quelle invece le capivo benissimo capisci? cioè lì è stato proprio come sentire qualcuno che parlasse la mia lingua e lì mi innamorai proprio insomma di loro ti dicevo di Jake in particolare nel senso che per me a quel punto lì Jake era veramente una spanna su tutti anche su quei tempi in quel disco lì per me Jake è il più bravo e lì ho deciso che avrei voluto fare il rap ho capito che dovevo parlare realmente di quello che vivevo tant'è che poi nel mio primo tape c'erano dei riferimenti comunque non so appunto all'essere uno zarro anche io alle giostre il booster il sierra tutte delle robe che magari negli altri dischi in emergenti così non c'erano perché come ti spiegavo prima c'era ancora tanto ancoraggio proprio alla cultura dell'hip hop io venivo anche mal visto per questo e quindi ti dico questo per quanto riguarda il rap italiano e poi ci fu un periodo in cui cominciai ad ascoltare anche tanta musica oltreoceano per prendere dei riferimenti proprio a livello di suono di attitudine e mi ricordo che ascoltavo tanto i deep set giù il santana soprattutto fabulose era un altro di quelli era proprio un mio mito infatti tanti freestyle che scrivevo e registravo erano su type beat che avevo usato fabulose i docs che poi forse a quel periodo si chiamavano JD Block i mob deep mob deep un altro gruppo incredibile rest in peace prodigi e insomma tutta quella roba lì the game con dei documentari cioè quella è tutta roba che mi ha formato erano dischi che ascoltavo con un attaccamento che oggi non riesco più ad avere beh ma dato che mi hai detto quella cosa di Jake tra l'altro Jake quando è stato qua abbiamo parlato quando abbiamo parlato di te ha detto che sei il più real ha detto delle cose molto belle ma devo andarmela a vedere mi è uscito questo no non è ancora uscito non è ancora uscito però quando esce te lo cioè mi hanno ancora uscito nel momento in cui stiamo facendo questa chiacchierata e cosa ha significato cioè cosa ha significato per te puoi fare un album con lui è stato perché lui mi ha detto che quell'album mi viene in mente una frase di giovanotti non è questa la vita che sognavo da bambino è vero cioè proprio lui ha detto che sei stato tu a spingerlo tanti cioè tu a quel punto sei stato ispiratore per lui sì cioè quindi è incredibile la vita se ci pensi rispetto a quello che hai raccontato adesso sì 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 infatti mi ha gasato molto tutto il contesto mi è piaciuto tantissimo quando proprio innanzitutto per me è stato un onore conoscerlo Jake perché io non so cosa abbia detto lui di me ma sono sicuro che sono le stesse cose che penso io di lui quando la gente mi chiede ma nella musica tutti mi dicono sei l'unico così dico no non sono l'unico ce ne sono pochi uno di questi sicuramente è Jake cioè è un'altra persona molto reale forse l'ho già detta anche questa ma è il classico amico che se lo chiamo perché mi si spacca la macchina alle 4 del mattino mi viene a prendere o mi manda qualcuno sono cose che non fanno tutti soprattutto in questo ambiente e poi è stato bello perché comunque io sai cosa Jake adesso quando sentirà sta roba poi se ne approfitterà al bastardo ma col fatto che musicalmente mi ha cresciuto e io lo stimo così tanto mi fa sempre provare leggermente ad oggi perché abbiamo veramente tanta confidenza figurati no però c'è sempre ancora quella roba un po' del fan no cioè Jake è in grado ancora di mettermi in soggezione a volte no ok e un po' vabbè perché comunque io essendo un piazzarolo anche io per me comunque uno che è più grande io sono ancora con la roba del rispetto bravo per quelli più grandi ovviamente nei limiti certo però dico comunque sono uno che ascolta volentieri soprattutto se è una persona che stimo come lui e poi a livello professionale è stato bellissimo è stata una cosa che mi hanno invidiato in tanti cioè tutti tutti no però la maggior parte dei rapper di Milano che sono cresciuti quelli della mia generazione so che hanno in senso buono hanno invidiato questa cosa cioè Jake è stato un po' il padre di tutti e poi sì e poi è sempre bello appunto a me impressiona anche come alle nuove generazioni Jake o anche tu insomma sai perché sembra sempre quando ci sono delle nuove generazioni sembra sempre che debbano rifiutare quello che c'era prima cioè quello che c'era prima e invece a te a lui ad altri nomi che abbiamo anche già fatto gli viene riconosciuto quello quello status di di legend cioè alcuni diventano tra virgolette intoccabili no ed è comunque quella una forma di rispetto che sei in un mondo che sembra oggi dove il rispetto sembra che non ci sia in realtà quello perché è un po' una cosa inequivocabile cioè se sei ancora qui dopo tanti anni già questo è un dato di fatto devo dirsi sei più bravo degli altri quantomeno quelli che stavano con te che non ci sono più e poi forse noi siamo stati anche bravi a creare della musica senza tempo quindi che al di là del suono comunque avesse un messaggio che rimane negli anni e anche a seguire seguire non mi piace però diciamo ad avere uno spirito di adattamento idoneo a questo genere musicale che vuol dire comunque non rappare sempre sui stessi beat non avere sempre lo stesso flow ad imparare a usare gli strumenti i plugin necessari per avere un suono comunque musicalmente tu ti sei sempre voluto non hai fatto sempre la stessa sempre la stessa cosa no infatti tutti i miei dischi sono diversi cercato dalle produzioni di essere come hai detto tu un po' al passo con quello che stava che stava succedendo forse anche un po' avanti in alcuni casi tu ancora ti immagino di sì però di roba fuori dall'Italia te la ascolti te la guardi sì ad oggi in Italia ascolto poco veramente anche se ascolto comunque i dischi che mi interessano li ascolto ancora però il mondo adesso va così veloce che diventa anche difficile star lì dietro e ti dico non so non sempre trovo l'ispirazione della musica rap ad oggi ok anche perché ormai adesso sembra però è tutto un po' più fluido cioè è sempre più contaminato non c'è più quell'integralismo su un genere musicale anche se io sarò che io sono cresciuto ascoltando quello che hai ascoltato cioè quello che dicevi tu prima e quindi ogni tanto quando vedo la musica rap nuovo qualcosa quando anche semplicemente non fanno la rima per me è proprio la base ci resti male ci resto male ci resto male eppure ormai è stata quasi accettata questa cosa qui sì allora dipende dai tempi per esempio c'era duels che non chiudeva le rime però era stiloso aveva un modo di mettere le parole che sembrava che le chiudesse però capisco cosa vuoi dire sì i tecnicismi per me sono necessari cioè consento che non vanno bene a tempo che precisiamolo perché già mi vedo il titolo non parlo di Tedua Tedua fa il cazzo che vuole perché ha il suo stile parlo di uno che proprio non riesce perché arranca capisci no? quelli che dici che ci provano ma vedi che fanno fatica ad andarli dietro che il flow è moscio è timido la voce comunque la sento scollata dalla base che le rime fanno schifo o magari le chiudi tutte le rime però comunque non c'è mai una barra bella penso minchia io mi lamentavo veramente di cose che sentivo sei sette anni fa a confronto erano erano dei capolavori beh certo quella roba lì è stata un po' un po' cambiata qualitativamente la musica si è abbassata tantissimo è cresciuto molto l'immaginario la consapevolezza e la professionalità di chi ci lavora ma a livello qualitativo è un po' è un po' scesa beh adesso dirò una roba un po' da spavaldo ma tornando al discorso di prima ma se comunque io Jake Marrague Fibra diciamo quelli che c'erano tanti anni fa siamo ancora qui mentre di quelli nuovi vedi che comunque durante due anni qualcuno è rimasto e sta rimanendo perché sono anche loro però è giusto un motivo c'è voglio dire vuol dire che c'era comunque della solidità nella nostra musica che viene a mancare nella maggior parte dei casi di quelli di oggi ok ok il ragionamento fila ed è per questo anche tra quelli insomma con cui sei partito tu poi non è che sono rimasti tutti anzi questi sono degli anni veramente di continua evoluzione per cui è sempre più difficile restare sul pezzo prima hai citato Jake e i Dogo tu sei tra quelli che li vorrebbero di nuovo risentire insieme sì sì Jake Rossali rompi i coglioni sì sì tu sei tra quelli che vorrebbe un nuovo album dei Dogo beh sì anche Memoria dei Vecchiettivi allora da una parte non so c'è diciamo le mie schilla consapevole ti dice i Club Dogo sono un gruppo talmente riuscito bene che è meglio lasciarsi dove erano perché non vorrei che ad oggi magari non hanno più quell'alchimia però c'è Lemie Schilla piccolo quel ragazzino fan che dice vorrei andare a un concerto di Club Dogo sì sì ma secondo me succederà bisognerà vedere quando si riallineano i vari pianeti musicalmente hai fatto un sacco di robe anche diverse tra di loro prima hai detto l'inno del Milan l'inno dei Mondiali erano i Mondiali no? sì quello poi era terra l'inno dei Mondiali di Sky sì sì è vero però è diventato per quell'estate lì mi ricordo la canzone un po' di riferimento io ricordo che c'eravamo beccati per NBA 2K tu eri finito anche nel videogioco di NBA 2K in quell'anno nella soundtrack tra tutte le esperienze che ti ha regalato la musica oltre al fare i dischi e andare dal vivo a suonarli qual è quella che più ti ha ti ha dato soddisfazione o ti ha emozionato? sai che è una domanda che cazzo non me l'hanno mai fatta incredibile ed è una roba che dici strano eppure non è così scontata qual è l'emozione cioè la cosa più bella che mi ha che ti ha dato la musica oltre al poter fare la musica stessa cioè sia per esperienze che per cioè immagino no anche aver fatto l'inno del Milan deve essere stata cioè della squadra che tu quella deve essere stata quella è una roba di profilo o essere andati da qualche parte non lo so o aver lavorato o aver conosciuto qualcuno allora sicuramente ci sono tante cose magico cioè tante esperienze appunto mi ricordo il primo anno che mi invitarono a vedere la MotoGP eh i box io appassionato di moto insomma quella fu una bella esperienza per esempio a Valencia no e ovviamente è capitata anche se non ero lì a cantare è capitata tramite la musica ho conosciuto tanti attori chiaro no quindi comunque magari anche attori che stimavo molto o altri musicisti che stimavo molto sportivi ho conosciuto la mia attuale fidanzata cioè ci sono ho viaggiato ho visto tanti posti nel mondo ci sono tante cose che la musica mi ha portato a fare quindi sceglierne una in particolare dirci un'esperienza che hai avuto eh ti dico non è semplice però è una figata sotto questo punto di vista fare questo lavoro perché ti offre tante possibilità anche a livello personale certo beh la roba della moto è bella perché ti si ricollega a un'altra tu mi è sempre sembrato insomma tu hai tante passioni a parte lo sport che da quando ti conosco ogni volta che ti vedo sei più grosso adesso non so beh cazzo sì ti sei messo cioè c'è stato a un certo punto in cui hai switchato fisicamente io ne ho avuti un po' diciamo ho iniziato a allenarti molto presto quando hai iniziato se vai a rivedere i tuoi video i primi video eri proprio secco secco piccolino magrissimo sì eri proprio boh 17 kg meno di ora non lo so ero molto piccolo poi ma di costituzione sono sempre fatti i suoi polsi piccoli sì però cioè cazzo ho messo un po' di volume sicuramente e sì poi vabbè ci ho dato dentro mi ricordo il periodo 2015-2016 già ero bello intorellito e poi basta poi da lì ho avuto una sorta di calo perché ho iniziato a fare tantissima box quindi ero dimagrito comunque abbastanza drasticamente poi c'è stato il lockdown appena diciamo c'è stato un po' di sblocco dal lockdown mi ero preso con altre cose ho fatto un anno praticamente soltanto ad andare a correre sì e a correre con le moto in pista a correre con le moto quest'anno non ci sono andato infatti c'ho un po' la marognola in bocca sì non ho avuto proprio tempo però sarei voluto andare ho fatto un po' di arrampicata nella palestra e anche in montagna sono andato a fare una bella parete di 220 metri insomma queste sono state tutte esperienze molto belle lo sport comunque ti è sempre servito cioè l'hai sempre moltissimo moltissimo proprio a livello di disciplina anche sì mi fa sentire bene sapere che non sto dormendo e poi un anno fa niente mi ero furia di mangiare male non fare niente perché comunque vai a correre ma se poi mangi 4.000 calorie al giorno non va bene e quindi mi sono guardato allo specchio e ho detto mi sa che non mi sono reso conto forse una di quelle cose per cui ti avevo detto sono d'accordo con quello che scrivi era proprio perché una cosa a cui tengo tanto anche io cioè il fatto che adesso c'è tutto il concetto di body positive e tutto quanto che però sì va bene accettarsi con il proprio corpo accettarsi con il proprio corpo però c'è un discorso di salute che va a prescindere non bisogna incentivare esatto cioè non deve essere fraintesa quella roba lì cioè se sei per dire sovrappeso comunque se c'è qualcosa che non va non è che devi dire ok va bene ma più che altro allora c'è sovrappeso e sovrappeso se sei cicciottello anzi cicciottello asterisco così sono tutti contenti così sei proprio tranquillo protetto voglio dire va bene se ti piace veramente così io lo dico sempre per me quelli che magari appunto sono un po' così ma si piacciono sono dei fighi automaticamente anche per me sono anche sicuri poi il carisma fa sì che queste persone come dire non abbiano anche dal punto di vista proprio delle interazioni con l'altro non è che hanno qualcosa in meno di uno che invece magari è tutto fisicato perché poi veramente cioè le modalità con cui ti approcci e con cui fai colpo su qualcuno spesso sono proprio legate al tuo modo di essere sicuro alla dialettica quindi non è un discorso di vanità il mio però se sei in sovrappeso di 100 kg sei a rischio rischi l'infarto rischi tante altre mille cose allora incentivare quella roba perché a volte vedi post di gente che dice no ma guarda che sei perfetto così e no perché così stai male capito è come una persona che è diabetica e dici no ma guarda che sei perfetto anche se ti mangi il pacchetto di Eroshock no allora il buon senso fa sì che io ti dica guarda che punto uno lo devi fare per la salute punto due se non ti piaci se non ti piaci se non ti piaci non rompere i coglioni gli altri vai in palestra non so sbattiti cioè non può essere un deve cambiare il mondo per me siccome io non mi piaccio così allora tutti mi dovete dire che invece sono figo così o una certa voglio dire allora quella diventa insicurezza e l'insicurezza fa sì che diventi un rompiscatole no e quello non va più bene cioè non si può veramente permettere cioè pretendere che che sparisca no come dire ogni tipo di ipocrisia e quindi tutti di colpo cominciano a a vanificare comunque tu hai senti un senso di responsabilità al di là musicale anche per la per la figura pubblica tu tante volte perdi tempo tra virgolette a scrivere delle cose sui social anche lunghe per spiegare delle cose che allora ultimamente molto meno ti dico la verità perché perché poi ti rompo le palle dopo no perché sento un po' meno questa necessità nel senso che dico ma sì ascolta ormai lo sanno come la penso non devo neanche esprimermi no sanno tutti che tipo sono però le volte che l'ho fatto e sono state molte è stato proprio un chiarimento di mia posizione nei confronti della gente cioè oh guardate che io non è che sono come tutti gli altri che adesso si stanno paraculando scrivendo queste cose non le condivido per me è una grandissima boiata e ve lo dico così quando un giorno mi incontrate per strada se mi chiedete questa cosa e vi do una risposta di un certo tipo non ci rimanete male perché da me non vi dovete aspettare niente di diverso da quello che sono nella vita privata di tutti i giorni nel bene e nel male qual è la cosa su cui ti hanno rotto di più le palle sui social probabilmente la roba che no l'unica roba che un po' mi ha mi ha anche dato fastidio perché poi è diventato un meme fu ai tempi in cui uno mi aveva chiesto non mi ricordo neanche bene ah che uno mi fa come ti piacciono le donne e avevo risposto femminile no e uno mi dice ma perché è femminile ha ancora senso dirlo e dico certo che è senso cioè per me ci sono ragazze femminili e ragazze meno femminili come ci sono uomini mascolini uomini meno mascolini e poi avevo generalizzato un po' dicendo a meno che non mi piacciono tipo i piedi sotto le ascelle sì ok me lo ricordo che ad oggi dirlo anche io dopo tutti questi casini dico no era ovvio che qualcuno avrebbe rotto le palle io ai tempi l'ho detto sinceramente con un po' di ingenuità ma con tutta la sincerità del mondo e continuo a pensarla così nel senso cioè a me non è che non è che sono qua a far giri le parole e niente si creò un caso che meme era uscito di quello no è finito a dire perché poi c'era stato uno scontro diciamo con le femministe quelle proprio belle incazzate quelle che mischilla il male degli uomini credo che abbiano una tua foto bianco privilegiato etero patriarcato tutti insieme e quindi boh ci fu un po' di tafferuglio diciamo no con le femministe incazzate che non era neanche la prima volta la prima volta era per un testo tra messaggi in segreteria in cui interpretavo lo stalker vabbè e quindi il meme ad oggi è che mischilla picchia le donne cioè pensa a te come sei finito capito da una stronzata questo è una delle cose pericolose di questa era sì che mettono i meme la gente sottoscrive ironizza nessuno cioè nessuno no però magari capita qualcuno che dice ma perché ma quindi è vero no poi non va nessuno però uno su dieci va a approfondire le cose però capisci no io dico ragazzi ma state scherzando c'è una stronzata del genere ci fanno i meme capito no questo non mi piace perché è completamente anzi la cosa più lontana proprio dal mio modo di essere la violenza sulle donne per me è proprio un'infamità di quelle che andrebbe punita cioè quelli che ti dico quando dici li mettono in galera vorrei che invece stessero nei bracci con quelli che poi capito cioè è proprio un'infamità quella no però capisci tutto questo dà un parere cioè se questo parere no di dire a me che ne so mi piacciono le ragazze depilate è un tuo gusto personale se lo dice che cazzo ne so gino il carrozziere no nessuno li va a romper i coglioni ma se lo dico io devi scoppiare il putiferio no perché per qualcuno è dare un cattivo esempio ma non è un cattivo esempio di niente è per la mia personale concezione di femminilità perché a me piace comunque continuare a chiamare le cose col proprio nome e questo è il mio modo di parlare di collegare i fatti alle parole questi sono i criteri punto poi c'è come non so quando io per esempio mi depilo i peli sulle gambe soprattutto l'estate me li faccio perché non mi piacciono sotto le asciaglie manco quante volte mi sono sentito dire anzi tu lo sai ti ricordi quando eravamo a The Voice c'era quella stylist mi pare che mi diceva ma ti fai le sopracciglia ma no l'uomo non si deve fare le sopracciglia no l'uomo perché quindi è venuto a dirle no per te non sono un uomo ma sti cazzi la tua concezione di uomo è di un uomo il tuo guto la tua opinione ma chi se ne frega il mondo è bello perché varia se imparassimo tutti ad accettarci l'un l'altro veramente però che vuol dire anche accettare il pensiero diverso non solo accettare che si diva ma anche accettare che tu pensi diversamente da me allora andremo tutti d'accordo fin quando vogliamo essere tutti uguali nell'aspetto no ma anche tutti uguali nel pensiero non andremo da nessuna parte questo è vero l'altra teoria che ho su questo è che a voler fare sempre più gli inclusivi a tutti i costi oggi diventi esclusivo automaticamente bravo più vuoi includere più escludi in realtà però questa è una mia teoria su cui dovremmo poi farci no ma è lui si alzerà da fare un altro podcast però funziona però chi ti segue ti conosce lo capisci il tuo rapporto con i fan qual è la cosa più strana che ti è capitata da chi ti segue c'è qualcosa di particolare che sei rimasto pure tu spiazzato sì mi è successa una quest'estate siamo andati a suonare adesso non ricordo bene la località comunque in centro Italia e c'era un ragazzo della sicurezza che ci stava ascoltando noi siamo partiti col furgone sai la classica roba quando te ne vai dalla piazza con tutta la gente che ti busta i vetri ti fanno i video e gli uomini della sicurezza che allontanano la gente c'era un ragazzo della sicurezza davanti a noi che aveva tutti i tatuaggi uguali a me tutti compreso il 17 l'ha scritto uguale alla mia negli stessi punti tutti i tatuaggi uguali a me e questa persona non mi è neanche venuta a dire ciao a chiedere una foto non l'ho vista per tutta la sera ma dai ma hanno solo detto c'è uno con i tatuaggi ed era lì che scortava il furgone ma non è neanche guardato dentro il furgone niente come se fosse proprio la persona più lontana del mondo da me che è strano se ti capisci io mi faccio tutti i tatuaggi come Rodman appena vedo Rodman la prima cosa che faccio è il tipo a voi evidentemente gli piace il mio look ma non gli fai un cazzo di me non lo so però mi ha lasciato un po' ci abbiamo riso un po' magari era talmente in soggezione che non ha avuto il coraggio di venire può essere però ecco ti ha spiazzato sì esatto il contrario di uno che magari ti aspetta sotto casa sì perché è già capitato di vedere gente con i tatuaggi uguali e appunto poi si rapportano da fan chiaro questa persona invece mi diceva no vuoi mi stai trovare questo ragazzo qua ma io dico ma come ha questo c'è i tatuaggi veramente come me non l'ho visto tutta sera poteva tranquillamente venire nel back era uno che della sicurezza sì sì non aveva problemi no a limite o anche darmi la mano mentre andiamo in furgo niente ma ancora un po' mi guardava pure male ancora un po' capito tra l'altro un'altra cosa di questa estate che mi ha fatto impazzire che ho iniziato a vedere ovviamente questo anche grazie a TikTok che ha cambiato un po' il mondo della musica e anche il mondo della musica live perché vedi video cose la gente fa roba eccetera sono tanti video tuoi sul palco che dici cose o che fai cose eccetera ce n'è uno dei più visti è stato tu che te la prendi con uno che si stava comportando male tra il pubblico cioè che giustamente gli hai fatto notare cioè tu sei il primo che durante un live se c'è una cosa che non va ti fermi dipende cosa non va ok certo allora adesso tra l'altro è bello che c'è un mio spazio per precisare tutti quelli che verranno questo video per favore quando vedete questo video su tiktok cazziate tutti quelli che scrivono palle ok no recentemente succede questo eravamo a suonare all'aperto tra l'altro sono ancora ammalato per quella data perché l'abbiamo fatta pochi giorni fa all'aperto morto ho preso la polmonite ancora un po' vabbè c'era questo ragazzo che continuava cioè mentre io suonavo veniva avanti con il telefonino in faccia te lo giuro e mi aveva scritto delle robe cioè magari ti scrivono tipo mi metti questa roba oppure seguimi su instagram robe proprio stupidi io non l'ho letto continuava a mettermelo così davanti no e io gli dico no no li faccio cerno come dire levati dei coglioni fondamentalmente sto lavorando cioè metti giù il telefono sto lavorando sono qua cioè mi stai anche rovinando l'interazione col pubblico perché c'è te davanti metti il telefono qua no uno due tre quattro volte dopo un po' gli ho dato una pacca sulla mano gli ho detto oh metti via il telefono questo ha pure detto che cazzo fai capito ah cioè quindi lì si è scatenata capito quella dinamica per cui il pezzo continua ad andare ho iniziato a a batti beccare con questa persona a dirgli ma ti sembra normale no cioè mentre io suono cosa vuoi che faccio che mi fermo e leggo i tuoi messaggi che sicuramente tanto c'è scritto una roba che non si può fare o che no vabbè insomma alla fine poi ci si è anche rito io questo ragazzo gli ho detto ascolta non puoi farlo mentre suoniamo buona sotto quel video di tiktok non so perché tutti scrivono tutto questo solo perché aveva il flash no no cioè quindi ma chi è che ha messo in giro questa voce no cioè secondo voi io mi incazzo per il flash cioè tutti hanno il flash ai concerti spesso è capitata meglio di dire accendete tutti il flash figuriamoci no quindi capisci il male del web tra l'altro c'è scritto da un ceffone perché non si vede sì perché poi è un attimo che diventa no perché è tagliato si vede solo che faccio il gesto sembra che ho dato un ceffone a qualcuno quindi sembra che ho dato un ceffone a uno perché aveva il flash e invece no ho dato una pacca sulla mano a uno sul telefono come dire mettilo via perché tanto non lo posso leggere fine però sì è diventato un ambiente molto irrispettoso quello di DJ set perché una volta o non ti cagavano o venivano gli invasati del rap adesso c'è un pubblico occasionale che ti conosce ma tutti vogliono essere parte dello show non vogliono più essere il pubblico e basta vogliono il loro momento di protagonismo vogliono che prendi il telefono ti lanciano il telefono salgono sul palco questo e questo e quell'altro e questo per chi come me arriva ripeto da tutt'altra realtà a volte è faticoso no però non può esistere non solo per te credo che per chiunque non può esistere cioè se tu e in alcuni momenti lo scegli ho visto dei pezzi invece in cui tu sfidi qualcuno del pubblico ma quello ci sta è parte dello show quello è molto figo come cosa cioè hai beccato anche gente comunque bravo quello che ho visto io li hai stesi tutti ovviamente però è bella quella roba lì sai fosse una volta non so a Riccione è salito diciamo una sbulla locale sul palco con noi un sbullino era simpatica la roba lui l'abbiamo tenuto sul palco a fare tutto il pezzo saltava era troppo bello da vedere questa cosa sembrava quasi preparata allora una volta ogni tanto ci può stare però non può essere che allora tutte le volte qualcuno vuole salire sul palco certo tutte le volte qualcuno deve dirti che pezzo mettere poi ti prendono ti toccano ti tirano cioè a volte rischi di volare no? poi ti incazzi il video va su internet la gente non sa cosa succede ma perché ha trattato male questo solo perché l'ha toccato e no magari io ho dato la mano e questo ancora un po' mi tirava giù e su questa roba quasi come quest'arte si è parlato un sacco di live partendo da Rove da tutto quel mondo lì che ti sei fatto di quella situazione cioè mi sembra che forse anche hai detto qualcosa durante qualche live su questa cosa del lamentarsi che il pubblico non segue non salta o non fa casino durante il proprio no allora lì si è creato un po' un fraintendimento perché io avevo fatto una battuta ho detto ragazzi vi siete rotti i coglioni e se me lo dite dicevo non è che faccio le scenate come altri dicevo no se vi siete rotto il cazzo me lo dite prende me ne vado stavo facendo dell'autoironia però è sembrata più una frecciata quell'altro però poi l'avevo precisato sui social che non voleva essere così per quanto non condivida il modo perché alla fine cioè comunque lo sciolo fai tu sapessi tutte le volte già Luca ho beccato io gente che sotto il palco si rompeva le palle sono dei ghiaccioli e lì tu fai il tuo meglio poi alla peggio sono loro che non si divertono sei sempre lì comunque a fare il tuo prendi i soldi e te ne vai alla peggio però sì diciamo che non tutti ancora hanno quella quella cultura del divertirsi i concerti e a volte è spiacevole indubbiamente freestyle ci sei ancora affezionato sì moltissimo quella è un'altra cosa che differenzia molto chi sa fare ma ci saranno delle cose arriveranno delle cose una cosa guarda ne approfitto perché ce l'eravamo scritti che io ma questo ti parlo di un po' di anni fa perché io vedevo tutti che venivano fuori che facevano i loro pezzi sui social dove scrivevano basement freestyle sparo un'altra cosa freestyle e nella mia testa io dicevo ma come fa a essere freestyle te lo sei preparato stai facendo e invece tu mi hai fatto una lezione per dirmi no è freestyle anche questo giusto? sì sono due modi è la stessa parola usata per due contesti diversi il freestyle vero e proprio è che io metto capito no una base adesso no è improvviso ok quello è il freestyle vero però per freestyle si intende anche la strofa scritta senza tema ok cioè io adesso dico faccio appunto perché poi prendono il nome del format perché non c'è un tema ok capito no cioè gazzoli freestyle numero uno e scrivo che ne so 24 balle però non lo stai improvvisando in quel momento scrivo un po' al volo è un freestyle scritto diciamo e lì ti sei reso conto subito di essere abile a fare questa cosa quando eri ragazzino cioè si può allenare una cosa che sì certo che si allena la voglia e ti alleni guardando gli altri ascoltando il rap leggendo libri non lo so no leggendo libri no ti alleni sfidando gli altri guardandoli ascoltandoli capendo come fanno freestyle ok io vabbè quando ho iniziato a fare freestyle non rappavo quindi avevo un flow brutto ero tipo timido anche io arrancavo un po' sul tempo ma non perché non avessi la concezione del tempo però farlo improvvisando non è facile però mi resi subito conto che avevo quella marcia in più nel dire le robe che fanno ridere che poi è una chiave del freestyle cioè girare le parole essere bravo con le parole però sì ci si allena tantissimo come credo in tutte le cose che ti appassionano coltivandole se ti piace non so appunto fare podcast chissà tu quanti video di podcast di altri conduttori famosi dici cazzo però figo questa cosa che poi non vuol dire rifarlo uguale vuol dire ispirarsi magari avere un po' di contaminazione quella cosa lì aiuto come tu magari si è partito ispirandoti a Jake l'hai detto prima poi il tuo stile è diventato il tuo e adesso ci sarà qualcuno che proverà a farlo prendendo invece te di spunto tu hai tra l'altro tanti amici anche atleti che fanno sport diversi a me questa roba piace un sacco perché io poi vedo tanti punti in comune tra lo sport la vita eccetera cioè so che sei amico di Max di Biaggi tanto per le moto di Mario Balotelli l'hai citato anche prima come nascono questi rapporti di solito anche con tanti lottatori no? una roba che segui molto sì nascono spesso perché magari tu segui il loro sport e loro seguono la tua musica ok molto spesso capita così altre volte li incontri non so l'ultima volta sono andato a a Parigi sì a vedere Marvin appunto Vettori che è comunque un altro nemico ed è un lottatore e tra il pubblico c'era Ignazio Moser non so essere un ciclista insomma adesso non so se fa più suo papà sicuramente tanto lui anche ha fatto un po' di cose adesso sì esatto ho fatto un esempio però capito ci si becca magari in serata capito ci si prende bene poi magari si scherza ci si sente eccetera c'era anche ventola certo era lì a Parigi c'era anche Carbreve ho visto Carletto bravo c'era Sfero ho beccato adesso sta attirando molti quel mondo quindi è un attimo poi sta a fare i PR poi qualcuno ti sta simpatico qualcuno meno chiaro però diciamo che è un attimo ecco ti sto a dire per esempio che ho capito una cosa che con i calciatori faccio più fatica alle gare davvero? sì ma perché i calciatori hanno proprio un'attitudine alla vita che è molto diversa dalla mia cioè il calciatore comunque è uno che ha una disciplina che lo costringe anche un po' poi ci sono i matti anche lì però ti dico molto spesso sono bravi ragazzi il calciatore è uno che comunque dedicata la vita in campo sì non puoi non puoi sgarrare troppo se non hai finito di fare il tuo lavoro già il lottatore è un po' più rock capito no c'è già uno che comunque va a prendere a dare i pugni in faccia esce tutto spaccato ho capito è già un'altra cosa anche se è disciplinato anche lui il calciatore ti dico sono pochi i calciatori che ho incontrato e in cui ho visto la stessa cazzimma magari proprio nello stare in giro che magari posso avere io e i miei colleghi beh valotelli credo di sì cioè com'è una tua serata con Mario ci siamo divertiti allora io e Mario lo dico così evitiamo imbalazzi e Mario non ci caghiamo più ma va davvero? sì sì però in realtà è anche un po' abbastanza vague però non siamo più in rapporti da tanto tempo ormai però sicuramente ci siamo divertiti molto e lui era uno dei pochi per esempio con cui poteri passare una serata piacevole nonostante giocare a calcio sì infatti ha avuto anche un po' di problemi lungo la strada non vanno bene le due cose insieme non è difficile portarle avanti in parallelo però ci siamo divertiti sicuramente innegabile credo anche io una cosa prima di chiudere che poi mi interessava perché ovviamente mi sento cioè empatizzo molto con le mischilla padre perché la nostra figlia la mia prima in particolare ha più o meno la stessa età della tua femmina ovviamente questo ci ricolleghiamo anche a tutti i discorsi femminili che abbiamo fatto prima ma secondo me sei un papà tenero cioè se come ti sciogli a livello com'è come le mischilla la migliore versione di me stessa c'è la mia figlia sì in tutto e per tutto con lei no ma non ha neanche inibizioni ad ammetterlo cioè sono totalmente tutto quello che può essere di buono romantico comprensivo dolce con mia figlia sì mi rimbambisco totalmente è il mio angolo di pace anche un po' magari di vivere con lei anche se dall'altra parte quindi da quella del genitore quello che non ho potuto vivere magari io cioè io ho avuto comunque una crescita molto diversa cioè mio papà aveva i suoi problemi e comunque non abitava con noi sono cresciuto con mia mamma ma anche lei era sempre a lavorare faceva due anche tre lavori alla volta e spesso stavo dai nonni il rapporto comunque era molto conflittuale sempre sai quelle famiglie un po' certo abbiamo poi del sudro sempre a gritarci addosso quindi ti dico abbiamo avuto un rapporto sicuramente forte comunque no l'affetto l'amore c'è sempre stato però magari fatto un po' meno di questi quadretti no da famiglia del mulino bianco con mia figlia riesco a viverli tutti cioè come figlia che viene a casa le prendo da mangiare quello che vuole lei e ci guardiamo i cartoni a letto e vado a letto e leggo le favole e se vuole giocare con i trucchi e nascondi mi sorbisco tutto quello perché ho molto più tempo di quanto magari ne aveva mia madre capisci no ma tu quando fai il papà che poi si è sempre papà pensi a tuo papà cioè tuo papà è stata una figura importante per te l'hai messa tante volte anche in musica l'hai raccontato tante volte è una cosa a cui pensi a come lui faceva il papà e quello che era presentato per te si a volte quando per esempio ti facevo l'esempio prima mia figlia mi diceva posso giocare no giochiamo che ne so andiamo in camera mia a giocare no e magari sono stanco morto non ne ho proprio voglia e ci provo mezza volta e dico dai no perla sono stanco no dai papà no e in quel momento lì ti giuro infatti mi hai chiesto una cosa assurda penso sempre cavoli però a me piaceva che mio papà mi diceva sempre di sì su certe cose no e quindi un po' mi intenerisco di mio perché vedo lei però forte anche di questo dico dai andiamo su giochiamolo perché comunque dico io mi sono affezionato tanto a mio padre proprio perché era una persona disponibile generosa era difficile che mi dicesse di no chiaro se mi diceva di no era no ma era molto molto raro tra l'altro Jake mi ha detto quando viene Emis adesso non mi assumo le responsabilità perché mi ha detto lui chiedile di sua mamma che sembra brutta detta così se vuoi ne parliamo però sì se hai un guarda come ci tiene Jake io te l'ho chiesto vabbè allora ci sono delle cose le devo guardare sul telefono devi capire che mia madre è tipo un mito per le robe tipo che fanno ridere no perché ha un rapporto con i social che fanno fanno molto ridere il modo in cui si comunica mia mamma con me su internet fa straridere questo è lo più recente che è come guarda che c'è molte mamme no ma mia madre è veramente veramente assurda mi scrive questo ero a Parigi tra l'altro nei giorni che ti dicevo ciao domani parto e io le scrivo beata te col punto esclamativo di solito si dice buon viaggio e io le scrivo sentiamoci domani scema con tre cuori mia madre non saprai più nulla di me se vuoi mi chiami tu risposta mamma ma sei ubriaca con le faccine che ridono e poi ho scritto mi fai tenerezza comunque sei carina scema lo sai che non dico niente perché dovrei avvisarti ogni giorno se no sono sempre in giro dai mesi domani già torno per dirti sono venuto qua per un giorno questo perché risposta non mi sentirei più per quindici giorni ciao anche il timer l'ha messo lei quindici giorni no vabbè sta fuori di testa aspetta che c'è no zanna vieni dentro ne ho una che è ancora più bella quella della tigre quella della tigre aspetta quella della tigre quella della cover dell'album dichetta music brevissimo quella è micidiale frate aspetta che la trovo comunque la mamma è sempre la mamma eccola qua le mando una foto con la tigre bianca e le rispondo il mio nuovo animale domestico per ridere mia mamma secondo te cosa mi ha risposto dice sei pazzo un altro impegno no cioè io le ho scritte mamma sto scherzando per fare una foto secondo te mi prendo una tigre bianca non ha messo neanche non ha messo in discussione che potesse non essere vera questa cosa no ma neanche che potesse essere pericolosa per i cani per la bimba solo un altro impegno come dire bravo non ti bastava il cane la moto ma sui tatuaggi ti rompe le scatole ancora no 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 a mia mamma ne ha poi un po' di tatuaggio ah quindi non è ancora mia mamma invece sui tatuaggi ancora ogni volta ho fatto uno scherzo sul tatuaggio sul collo e lei è andata avanti cioè continuiamo di dicare uno scherzo ma ormai era partita per la tangente intanto per salutarti ne approfitto Carlo Carlitos c'è qua anche Carlitos vieni Carlitos lavora con me anche in radio si occupa di tutta la parte tecnica e lui è un tuo grande fan fagli vedere il tatuaggio guarda il tatuaggio di Carlitos grande 17 gang 17 gang uguale con il stesso fronte beh cazzo uguale quel 17 allora ti avevo chiesto prima preparati che domanda vorresti fare emis ci hai pensato non ti è venuto in mente no qualcosa si vai vai però fagli una domanda vai Carlitos avvicinati al microfono vai qual è stato l'album più difficile che hai scritto come a livello dei metterti giù un momento che non ti veniva in mente cosa scrivere o cosa Mercurio Mercurio perché arrivava dall'Erba Cattiva che era un disco di impressione si era stato un disco che nella sua innovazione perché poi fu un disco veramente che apri le acque a tantissime cose no anche a partire da questi ritornelloni cantati non c'erano nel rap prima però era talmente stato fatto in maniera genuina che era venuto da sé non l'avevamo patito da lì si creò l'aspettativa di dire cavolo adesso bisogna calcare cavalcare l'onda e mi ricordo che c'erano parecchie pressioni da parte della casa discografica e tuttora credo sia l'album che mi piace meno di quello che ho fatto ma il più bello è sempre il prossimo questa è una grande cosa che mi hanno insegnato è vero è vero però capisci l'album dipende come li concepiamo non so 17 appunto con Jake è stato un giochino ci siamo proprio divertiti capito che però è arrivato alla gente era un album da cui forse avevate un certo tipo di aspettativa che è andata anche doppio platino dove non c'è una vera e propria hit da radio non solo una vera e propria non c'è neanche una mezza hit ma però poi hit lo diventa nel senso che si però la hit è il pezzo dedicato ai nostri live io sono venuto ed era esatto quello dedicato agli abc galera la gente è impazzita niente io non vedo l'ora ci vediamo dal vivo live io ti ringrazio per essere venuto qui live davvero bro mi ha fatto un piacere e ti devo fare un complimento Giallo ci ho pensato prima sei un ottimo intervistatore perché non hai un brutto vizio che hanno tanti che è quello di parlare sopra e di non far finire cioè tu lasci parlare l'ospite e questa è una cosa bellissima per chi come me sente la necessità di parlare molto ti ringrazio davvero ci tenevo fosse uno spazio di valore anche per te grazie bravo grazie grazie